che guardate che figura di merda sono venuto a fare a Corinesa da mia figlia e poi c'è anche tutte le signore in questa zona che in cucina le fanno la peola ora ti tengo una settimana lì dietro oi 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 a lei chile chi sarò al marito per tu il nome dell'elio tanto piacere venga vado a far trivi venga eccomi giorgio i biglietti ce l'ho io da primo volevo fare uno scherzo ma poi stando con te mi sono accorto di questo desiderio che mi cresceva di giorno in giorno ci pensi giorgio io e te e bobby alle maldive grazie di vivere grazie di esistere grazie di avere due fondi occhi blu la sono anche guarda Grazie. 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 Grazie a tutti e buona sera.